Che nuvuta e nussurruta, E' passato ormai Natan. Come se lo vinte se fosse portata in un altro locale in aria. Tante persone hanno passato guai e sopportate malanne. Invece di solito fortunata fanno la vita delle milionari. A che se per tutto quanto è arrivata nata volta Natale. Quando l'angelo hanno annunziato la buona novella. La festa è considerata in da tutto l'uomo più speciale. Forse oggi, quasi solo per il reale, Ravvacanza la vita bella. La tradizione vuole che a mezzanotte si va alla messa. E magari non c'è pure lo pensiero da fare buona cristiana. Ma dopo qualche giorno non c'è scordammo della promessa. E non pensammo all'auto, né se stanno vicino, né lontano. Allora mi venne alla mente come era lo Natale di una volta. Quando si aspettava che tanta ansia che arrivava a sta festa. La gente mette in delo presepia tutta la speranza accota e appennia l'albero i desideri di realizzare l'est l'est. La mamma accomenzavano a fare sopra pettola e casa tèdda e le specialità che da sempre si preparavano da mangiare. Che potei cresciano crepette da mettere nella tèdda e l'anziola da mangiare lo meglio viene da assaggiare. L'icchio devota, la mattina di notte, c'era la nuela. Alla chiesa l'annunziata oppuramente a Santa Lucia, tutta appapugliata per s'è riparata con una sorta di gelo, tant'è richiatrata la neve sopra lì tette e in mezzo la viglia. La sera si scioglava la tomba in della casa dell'ovocenata. a ogni giro si pava cinque lire per s'appegliare due cartelle. Alla fine uno vengia appena quattro soldi in della serata, giusto per cattare una ciambata di canolina e caramella. Diverse famiglie facevano l'albero per la gioia del creatore. S'appannevano cioccolatine, facenette e limandareine. Qualche striscia di carta indorata per far più bella fora, date che non gerna né stella lucente né filo della lambadina. Tant'avagliuncide stacevano in mezzo la veglia a asciugare, seppegliavano appadutte la neve e facevano un bello pupazzo, oppure s'accompagnavano porta a porta di zambugnare, casunanne cercavano qualche cosa da mettere nella vesazza. Qualcuno sceglie a far farlo vestito nuvo dall'ocuso toro, che potegli spenni di ciò pure le scarpe dallo scarpare, anche se la festa era maggiormente attesa, che nato sapore, e non solo per cosa buona da mettere alla tavola da mangiare. La notte di Natale si mette ieri fu con un bello ceppone. Gli anziani contavano fatte che apportavano allegri e tristezza, le creature dicevano qualche poesia, cantavano una canzone e chiane chiane si addormevano per lo sun e la stanchezza. Le figliole apprecciavano grusse fra cire che la carvonella, si strangevano attorno attorno poesia, quasi non trasecchio niente. Giusto come dicevi lo proverbio che viene da tanto lontano. ecco, più o meno, anche se io l'ho natale nostra da una volta, si respirava una bella atmosfera, un'aria profumata e sana. mo' ogni un comando la modernità, si è girata la rota, soccangiate di timpa, raccose e soprattutto proprio di cristiana. grazie a tutti. grazie a tutti.